Carbonara, tu mi hai provocato e io me te magno. Oggi sono stata scelta tra tanti vlogger per presentarvi la mia ricetta della carbonara. Per i 70 anni di carbonara io ho deciso di presentare la ricetta classica, come mi è stata insegnata da una romana. Mi ha detto che utilizza 4 tuorli e un uovo intero per la padella, mi raccomando. Poi pecorino ed acqua calda, meglio se di cottura della pasta. Mescolata, si fa rosolare il gonciallo rigorosamente, senza aglio, senza cipolla, assolutamente no. Si versa caldo direttamente nel composto di uova, pepe e una mescolatina e nel frattempo si va a cuocere la pasta. Oggi ho scelto i spaghetti, ma puoi usare i bucatini, assolutamente ci sta benissimo. E poi direttamente nella ciotola. Si mescola, in questo modo non diventa uno frittatino l'uovo e poi si aggiunge il guanciale bello croccante. Una bella mescolata e si serve subito. Un po' di guanciale messo da parte, pecorino e mamma mia è speciale. Provare a farmi sapere e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie.